Gianluca Passato, un'opinione sulla mostra? Come si può dire, è una conferma perché a mio avviso Fronteddu e Patusi sono due tra i migliori artisti viventi, sardi, più interessanti e che hanno anche una proiezione visiva, concettuale, tranquillamente spendibile a livello europeo e mondiale quindi credo che il loro lavoro sia una conferma e anche la loro, come si può dire, unione lavorativa quindi la produzione delle opere fatte a quattro mani sia di straordinario interesse per chi, come si può dire vive della necessità di riconoscere una bellezza nuova che sta solo negli occhi di artisti come loro